e il shalom shalom eccomi qua con un'altra breve video lezione per predicare la verità della della bibbia e prima di iniziare voglio dare tutta la gloria potere e adorazioni al vero e unico e solo potere vivente yahoo bahashem yahoo shai bahashem kak dash voglio dare i doppi onori agli anziani e apostoli della great new stone gms gran pietra di mulino per il ministerio al servizio di yahoo bahashem yahoo shai per averci insegnato questa verità saluto gli eletti della casa di israele che sono dispersi nei quattro punti della terra che predicano questa verità che vivono in questa nella parola yahoo bahashem yahoo shai in sincerità umiltà saluto i fratelli e le sorelle che ascoltano questa verità shalom che significa pace nell'antico ebraico siamo qua a predicare al popolo di israele il vero popolo di israele che si che l'altissimo per mezzo di suo figlio yahoo shai nostro signore salvatore sta sta svegliando il vero popolo di israele che sono i così chiamati negri latini tainos indios nativi indiani d'america siamo dispersi in tutto il mondo siamo anche somiglianti agli altri popoli perché ci siamo mescolati ma dallo spirito riusciamo a sentire che apparteniamo alla casa di israele yasharala i principi di di dio principi del potere e ricordo che il nome unico e vero nome del nostro potere altissimo e yahoo dall'antico ebraico il quale significa colui che esiste lui esiste yahoo e brakta yahoo yahoo ssai è benedetto il padre è benedetto il figlio yahoo ssai che il mondo ignorantemente chiama con il nome greco di jesus christ il nome che ha sono delle allusioni a zeeus e a christus serapis il vero nome del nostro salvatore l'unica via per poter tornare a servire è l'unico e vero potere vivente, è Yahawashai, che significa colui che salva, lui salva. Ecco, predichiamo al vero popolo di Israele, che il Padre sta svegliando negli ultimi tempi, ci sta facendo conoscere i tempi nel quale siamo, ci sta facendo conoscere la sua volontà, ci sta facendo conoscere la, cioè, è per mezzo di Yahawashai, stiamo ritornando al Padre, ci stiamo tornati ad essere nella grazia, cioè, infatti, come dice la scrittura, noi non siamo salvi per opere, ma per la grazia che Yahawashai ci ha fatto, e conosciamo, conosciamo questa grazia, conosciamo la sua volontà, conosciamo il disegno magnifico che l'Altissimo ha per i suoi eletti, per i suoi scelti, i suoi serbi, infatti, come ci dice la scrittura, che molti avrebbero voluto, qui in Matteo, capitolo 7, versetto 17, dice, in verità, io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Questo è Yahawashai che parla, perché è per mezzo di lui che poi abbiamo ricevuto la Rukkakudash, lo Spirito Santo, per intendere ogni cosa quale ci è dato, ogni cosa che l'Altissimo vuole rivelarci, il mistero del regno che Yahawashimiavushai ha promesso, o comunque intendere la Sacra Scrittura, che ci ha aperto gli occhi e ci ha fatto rinascere in suo figlio, per questo che che torniamo anche a parlare la Shawankadash, la lingua santa, il vero ebraico, l'antico ebraico che è ormai andato perso, perché oggi l'ebraico moderno è un ebraico corrotto, è un miscuglio, è un iddish, miscuglio di germanico, slavo, arabo e poi c'è un pochino di ebraico originale, ma comunque è un miscuglio, è una lingua corrotta, non è una lingua pura. Ricordo che coloro che abitano in Israele adesso sono gli amalekiti, che discendono dalla nazione di Esau, Idom, che è il così autoproclamato uomo bianco che oggi detiene il governo, ha il potere su questa terra, sempre per volontà dell'Altissimo, perché sono la sua spada per punirci a noi che abbiamo disubbidito, però questo castigo sta finendo e ci sta rivelando la sua volontà, siamo qua negli ultimissimi momenti, degli ultimi tempi, che stiamo aspettando il ritorno di Yahawashai, che viene a salvarci, viene a stabilire il suo regno, viene a far finire il governo malvagio del così autoproclamato uomo bianco, Esau, Idom. Io ho voluto fare questo video perché stavo leggendo nel Vangelo di Matteo e c'è un versetto che voglio dare, voglio condividere con gli Achiam e le Aquat che ascoltano e si trova in Matteo 6 al capitolo 19 che ci dice, che Yahawashai che ci dà istruzioni e ci dice non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la rugine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo dove né tignola né rugine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Questo è, per molto tempo, questo versetto per me è rimasto, è rimasto senza una spiegazione, non riuscivo a capire che cosa volesse dire, ma attraverso la Rukak Dash, adesso ho l'intendimento di cosa dice il versetto 21 soprattutto dove dice, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Praticamente Yahawashai ci dice di non farci tesori e ricchezze qui in questo regno, in questo governo, in questa generazione, perché stiamo aspettando il suo di regno, il suo di governo e la sua vita eterna che ci ha promesso, quindi di non crearci delle nostre carriere, delle nostre vite qui sulla terra, comunque tesori, beni qui in questo regno, in questo governo qua, dove ci dice dove ci sono i ladri e dove marciscono poi, ma dice fatevi tesoro in cielo, e come facciamo tesoro in cielo? Attraverso l'ubbidienza, Yahawashai, attraverso i comandamenti e attraverso le opere, come la carità e come aiutare un fratello, come la pietà, come la misericordia, il perdono e l'aiutare il fratello soprattutto. Quindi il nostro tesoro sta nella nostra condotta, nella nostra condotta per essere graditi e per piacere a Yahawashai, sta questo tesoro che noi ci facciamo nella speranza in cielo, che noi sapendo che ci comportiamo, imitando la condotta del nostro signore assalvatore Yahawashai, sappiamo che ci facciamo un tesoro nei cieli. Per darvi una breve dimostrazione su cos'è un tesoro, o comunque che cosa intende per tesoro è come quando il ricco gli andò a chiedere a Yahawashai che cosa doveva fare per avere la vita eterna. Si trova in Matteo capitolo 19, al versetto 17 dice Yahawashai, un tale, parto dal versetto 16, un tale si avvicinò a Yahawashai e disse Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? E Yahawashai gli rispose, perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Anche negli altri Vangeli c'è, questa è una piccola parentesi, questo ricco dice vicino a Yahawashai, Maestro buono, Maestro buono, che cosa devo fare per entrare nel Regno dei Cieli? E Yahawashai gli risponde, perché mi chiami buono? Questo è anche un messaggio per tutti quelli che si sono immaginati il loro Gesù dolce e il loro Gesù tutto mielato. Yahawashai, uomo dalla carne e dalla pelle nera, negra e dall'autorità severo, rispose ecco, perché mi chiami buono? Quando uno solo è buono ed è l'altissimo, Yahawashai, e dice, ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Chiarissimo, osserva i comandamenti. E questo ricco gli rispose, quali? Gli chiese. Yahawashai rispose, questi non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimonare è falso. Questi sono i dieci comandamenti, ad esempio. E ama il tuo prossimo come te stesso, quindi va a prendere un comandamento che si trova nel Levitico, capitolo 19-18, perché i comandamenti non sono solo dieci, ma sono 613. Non sono tanti e non sono per niente, sono facili, è un gioco facile, come ci dice la Sacra Scrittura. Ve lo prendo, si trova in Giovanni. Nella prima lettera a Giovanni, capitolo 5, versetto 13, perché questo è l'amore di Yahawashai, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi, non sono un peso i suoi comandamenti. E per arrivare al punto del tesoro, il giovane rispose a lui, tutte queste cose le osservate, che mi manca ancora? E Yahawashai gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e segui. Quindi il tesoro nei cieli, te lo fai attraverso le tue opere, attraverso la carità, attraverso i gesti, attraverso le nostre azioni. Noi sappiamo in speranza che attraverso il nostro comportamento, la nostra condotta, ci facciamo un tesoro nei cieli. E sta qua. Quindi ecco, scegliamo di vivere una vita senza i vizi e gli spizi della vita mondana del regno di Esau, del regno di Ido, ma rinunciamo a questi piaceri per il regno che sta arrivando, per la vera vita. Mi viene in mente anche nel libro degli ebrei, quando si parla di Mosè, e ve lo prendo velocemente, proprio per farvi capire che cosa significa rinunciare? Nel libro degli ebrei, capitolo 11, versetto 23, dice, per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Salachia, è questo il versetto. 24, capitolo 11, 24. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo dei piaceri del peccato, stimando gli oltraggi del mashac, ricchezza maggiore dei tesori dell'Egitto. Cioè, questo è l'esempio che ci dà. Mosè decide di rinunciare ai piaceri e agli onori che lui aveva come figlio della figlia del faraone per essere maltrattato da come, cioè maltrattato comunque come siamo noi oggi gli israeliti che sono l'ultima casella di questa società, siamo tra virgolette in schiavitù, siamo in una schiavitù moderna, non in una schiavitù con la frusta, ma siamo in una schiavitù dove dobbiamo lavorare per sopravvivere. Quindi è questo quello che si intende quando si dice maltrattato, perché il popolo di Yahao Bashi Miao Ashae oggi è l'ultimo della società, quindi siamo maltrattati. E quindi per questo noi evitiamo, cerchiamo, per questo che Yahao Ashae ci ha comandato di non farci tesori qui, tesori a livello di beni, di ricchezze, di soldi, perché poi finiamo, perché Salachia, versetto 21, perché poi dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore, questo versetto qua, perché lì dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Quindi se noi ci facciamo tesoro qua nel regno di Esau, le nostre ricchezze, i nostri progetti e la nostra vita la dedichiamo qua nel regno del diavolo, qua siamo nel mondo che oggi è governato dai diavoli, significa che il nostro cuore è qui, è qui nel regno dei malvagi. Mentre Yahao Ashae ci dice dove sarà il tuo cuore, dove sarà il tuo tesoro, con lì sarà il tuo cuore, mentre se noi ci facciamo il nostro tesoro nella speranza di essere partecipi nel regno che Yahao Ashae manderà a stabilire al suo figlio, se noi abbiamo fede nel regno, nel mondo, nella nuova terra, nei nuovi cieli e nella nuova terra che sta arrivando, ci comportiamo e cerchiamo di farci, in base alla nostra condotta, alle nostre azioni, tesori per quel regno là. E per questo il nostro cuore è lì, che sta aspettando la speranza che Yahao Ashae, il nostro spirito, la nostra anima, mente, sta aspettando il ritorno di Yahao Ashae. E qua sta il breakdown di questo versetto, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore. Se il nostro tesoro ve lo fate qua nel regno dei diavoli, nel regno di Esau, Idon, significa che il vostro cuore sarà qui e non state pensando al regno, non state pensando al ritorno del re che verrà a distruggere questo mondo e stabilire il proprio, che sarà eterno e sarà glorioso e sarà meraviglioso. Quindi il tesoro Yahao Ashae che ci manda lo spirito per essere gli scelti, eletti e vivere il suo regno, noi lo facciamo attraverso la nostra condotta, le nostre opere, in vista del regno che verrà. Vi leggo per chiudere dagli ebrei, capitolo 13, versetto 5, dice la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Yahao Bashi Miha O'Shae ha detto, stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia, il Signore è il mio aiuto, non temerò che cosa potrà farmi l'uomo, questo anche in vista di quello che sta arrivando attraverso l'avvelenamento di massa, attraverso il microchip che è tutto qui, ricordatevi questo versetto, così noi possiamo dire, noi possiamo dire con piena fiducia il Signore, Yahao Bashi Miha O'Shae è il mio aiuto, non temerò che cosa può farmi l'uomo. Quindi in vista di quello che arriva, sappiamo che il nostro aiuto è nel nome di Yahao Bashi Miha O'Shae e quindi la nostra condotta non sia dominata dalle ricchezze, dall'amore per il denaro e per i tesori terreni, ma la nostra fiducia, il nostro occhio, come dice Yahao Bashi Miha O'Shae, sia saldo e diretto nel regno che sta avvenendo, nel regno che sta arrivando, perché sta qua la fede. Yahao Bashi Miha O'Shae è venuto a predicare il suo regno, è venuto a insegnarci, a farci conoscere il Padre e a predicare il suo regno. Quindi sta qua. Ricordatevi come dice la prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 10, l'attaccamento al denaro è radice di tutti i mali. Quindi non state attaccati alle ricchezze mondane, al denaro e a altre ricchezze mondane, perché è radice di tutti i mali. Siamo attaccati alla parola che Yahao Bashi Miha O'Shae ci ha lasciato, la Sacra Scrittura, che è testimonia del Padre, del Figlio e del regno che sta arrivando. Detto questo, spero di essere stato edificante e lascio tutto nel sacro nome del Padre Onnipotente Yahao Bashi Miha O'Shae, Doppi onori agli anziani e apostoli della Great Mewstone GMS e saluto gli eletti della Casa di Israele che sono sparsi in tutti i punti della terra. Shalom, alla prossima.